san ermene gildo figlio di leo vigildo primo visigoto ad essere insignito nel 567 del titolo di re e legato imperiale in spagna era di fede ariana sposò una principessa cattolica ingonda nipote di gosuinda seconda moglie del padre e di fede ariana per far cessare le tensioni a corte re leo vigildo esiliò il figlio e la nuora a siviglia qui ermene gildo abbracciò il cattolicesimo a siviglia preparò un'insurrezione contro il padre ma venne sconfitto e incarcerato a valencia tarragona il giorno di pasqua del 587 gli venne proposto di tornare ariano in cambio della libertà ma egli rifiutò il padre lo condannò a morte ma poi si pentì e il fratello salito al trono si fece cattolico aprendo la stagione dei re cattolicissimi di spagna